Fine settimana di eventi e manifestazioni al Parco dei Nebrodi, in occasione delle giornate europee dei parchi. Palazzo Trabia a Santo Stefano di Camastra ha ospitato il seminario Montagne Mediterranee Protette, la fruizione ecosostenibile di un unicum di biodiversità. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Medimon Parks, ideato ed organizzato dal club alpino italiano in collaborazione con la Commissione Centrale per la tutela dell'ambiente montano. Padrone di casa, il presidente del Parco dei Nebrodi e coordinatore di Federparchi Sicilia, Giuseppe Antoci. Appare chiaro che questo è un percorso che noi dobbiamo continuare, questo è un percorso sul quale puntiamo, perché questo percorso crea quello sviluppo del territorio di cui io ho sempre parlato in questi mesi. Presente all'evento, l'assessore regionale al territorio ed ambiente, Maria Rita Sgarlata, che ha ribadito l'impegno del governo regionale per arginare il fenomeno del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo. E puntare così alla promozione di un turismo ecosostenibile. Noi dobbiamo portare avanti due azioni fra le tante, sicuramente le due azioni sono parallele, possono andare di pari passo. La prima è quella legata al dissesto idrogeologico, alla pulitura dei nostri alvei fluviali, cioè a tutto quello che riguarda anche la prossima programmazione europea 2014-2020. Poi c'è quello della valorizzazione, quindi conservazione e tutela. Sarebbe anche interessante, è un lavoro che ho già fatto proprio in questa settimana, poter istituire anche i geositi in Sicilia.